48 articoli con una spesa di 6 milioni e mezzo. Il collegato alla finanziaria esitato dalla quinta commissione arriva all'Ars. Al suo interno contributi per enti, associazioni, nascita di fondazioni, soldi anche per assunzioni e stabilizzazioni. Per Claudio Fava, deputato regionale del Movimento I Cento Passi, si tratta di una quarantina di articoli di varia natura con una miscellanea di provvedimenti a volte di buonsenso, a volte indifferibili, ma spesso del tutto privi di qualsiasi logica e visione strategica. Benvengano, dichiara, le norme a sostegno dei teatri e delle manifestazioni culturali di eccellenza in Sicilia o quelle a sostegno dei lavoratori di Almaviva, ma fra questi viene una lunga serie di microinterventi da poche decine di migliaia di euro a favore di questo o di quel comune forte di sponsorizzazione parlamentare. Ovviamente ogni misura di sostegno al patrimonio storico, culturale ed ambientale della Sicilia non può che essere ben accetta, ma senza una visione strategica sono provvedimenti per Fava che serviranno a ben poco. Valuteremo, dice, caso per caso e articolo per articolo, provando a correggere alcune storture e provando ad inserire delle misure di carattere più generale e meno particolare. Per questo sono stati presentati alcuni emendamenti che riguardano una programmazione più ad ampio respiro, l'estensione ai docenti non di ruolo delle opportunità per i percorsi di formazione, interventi per la riqualificazione del personale dei call center, risorse per i comuni in condizioni di sesto per la tutela dei beni culturali, maggiori garanzie di assistenza per gli studenti con disabilità, l'abrogazione di alcune norme che rischiano soltanto di disperdere in mille rivoli le scarse risorse della Regione. Resta in evaso il grande tema di una mancanza di prospettiva e programmazione delle poche risorse esistenti e di un continuo assalto ai pochi spiccioli disponibili. Un riordino di alcuni settori, sottolinea Fava, non può più essere rinviato, ad esempio per quel che concerne i giusti finanziamenti alle associazioni sociali, ai centri culturali che si occupano di antimafia e cultura della legalità e sul quale abbiamo già presentato un DDL apposito.